Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale e allora iniziamo il nostro consueto focus con i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare. Un nuovo percorso frutto di un accordo che ha visto protagonisti regione, comuni interessati e università. Torna in primo piano il tema della tramvia che da Peretola raggiungerà Sesto Fiorentino ed entrerà nel polo scientifico. Soddisfatto il presidente della regione toscana Eugenio Gianni. È molto importante l'accordo che abbiamo raggiunto, naturalmente la regione toscana che guida, la commissione di vigilanza, del resto la regione toscana è quella che mette i soldi sostanzialmente e quindi con il comune di Firenze, con il comune di Sesto Fiorentino, con una costante e approfondita informazione l'Università di Firenze si è concordato quello che sarà il tracciato su cui sviluppare la progettazione perché da Firenze a Sesto passando per Peretola, dove non ci sarà una rottura di carica, cioè scendere dal tram numero 2 della linea per salire su quella di Sesto, ma sarà una continuazione della linea 2, si arriverà con un tratto sufficientemente veloce che quindi non consenta tante deviazioni al centro di Sesto Fiorentino. Ci sarà una fermata dentro il polo e sarà chiamata polo universitario scientifico di Sesto. Posizione critica quella del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli. Noi abbiamo costruito un polo scientifico di eccellenza a Sesto Fiorentino nel deserto. Quando è stato realizzato il polo scientifico a Sesto Fiorentino è stato realizzato nel nulla. Sembrava veramente un film di fantascienza le prime immagini di un'università costruita nel deserto e la risposta era sempre la solita, aspettate perché tra qualche anno arriverà la tramvia e questo polo non sarà più nel deserto ma sarà collegato con la città. Stamattina, a parte che abbiamo perso 10 anni per strada dalla realizzazione alla messa in ponte dei lavori, apprendiamo che la tramvia non andrà al polo scientifico ma andrà in un liceo lì vicino. Questa è la mancanza assoluta di progettualità della quale noi accusiamo la sinistra toscana. Tu realizzi una cattedrale nel deserto perché un domani sarà servita la tramvia, arrivi 10 anni dopo e decidi di cambiare il percorso della tramvia e la mandi giustamente a servire un liceo lì vicino ma non il polo scientifico e quindi resterà una cattedrale nel deserto. Io ho sentito parlare di bus. Nel 2022 la regione toscana immagina di realizzare un'infrastruttura importante, pesante, impattante come la tramvia che collega Peretola con Sesto Fiorentino, portarla a Sesto Fiorentino di fronte a un liceo e da lì far partire dei bus che portano gli studenti universitari verso il polo scientifico costruito. Non è che l'avevamo lì dall'epoca romana, l'abbiamo costruito 10 anni fa nel deserto. La regione si confronti con il governo per mantenere l'opera nel museo. È quanto chiede il consigliere di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri intervenuto tramite una mozione sul tema relativo alla Madonna del Parto, celebre opera di Piero della Francesca, da anni al centro di una querelle relativa alla sua collocazione. Ho presentato una mozione dove chiedo che la regione toscana si faccia da mediatore nei confronti del ministero per cercare di mantenere l'attuale posizione dell'opera della Madonna del Parto di Piero della Francesca all'interno del museo che è proprio a poche decine di metri dal centro storico della cittadina di Monterchi. Ricordo che l'opera è custodita all'interno di questo museo da oltre 30 anni e che le amministrazioni comunali che si sono susseguite e diciamo grande merito all'attuale amministrazione comunale che ha rifatto totalmente il sistema di illuminazione che l'ha resa fruibile al pubblico e la mostra in una maniera che nessuno era mai riuscito mettendo in evidenza la reale cromia di quest'opera. Quindi si possono ammirare i colori proprio come l'aveva visti e come l'aveva dipinti Piero. Quindi non riusciamo a capire come il ministero si sia accanito nei confronti di un'altra amministrazione pubblica e che voglia ricollocare l'opera in questa cappellina che è fra l'altro non lontana dal centro del paese ma che sposterebbe totalmente quelli che sono i flussi turistici e delle visite di coloro che vengono ad ammirarla. Quindi è custodita bene, è custodita in maniera gelosa, sono tutti innamorati i cittadini di Monterchi di quest'opera, non si capisce perché se è ben custodita, è ben curata, voglia essere spostata. La questione relativa ad un eventuale ritorno ad una dimensione provinciale delle aziende sanitarie torna al centro del dibattito. A puntare i riflettori su questo aspetto dell'organizzazione della sanità toscana il consigliere della Lega Marco Casucci. Sapete bene che sono stato tra i primi a dire che le centralizzazioni non avrebbero prodotto risultati positivi. C'è un parlare relativamente alla ipotesi di un ritorno alla dimensione provinciale delle aziende. La Lega la sta portando avanti come idea e sono qui a dire che innanzitutto noi siamo per premiare, per valorizzare i territori sotto tutti i punti di vista anche di quello sotto il punto di vista sanitario. Continuerà la mia azione veramente intensa e produttiva per gli ospedali di Vallata e per il San Donato perché anche Arezzo merita una sanità di eccellenza. E' stato inaugurato il nuovo centro di formazione internazionale Metodo Rondine. Al taglio del nastro nella cittadella della pace situata nel borgo medievale che si trova a pochi chilometri da Arezzo era presente anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sono stato a Rondine qualche settimana fa e avevo promesso di dare il massimo riconoscimento del consiglio regionale. In poche settimane lo abbiamo fatto ma lo abbiamo fatto per un motivo semplice. In un tempo in cui c'è chi usa le bombe per distruggere stazioni, ospedali, la vita di tanti cittadini inermi, qui parte un messaggio forte, un messaggio di pace, un messaggio di costruzione di ponti tra culture differenti. Rondine è la nostra risposta alla guerra, Rondine è una missione per il futuro, Rondine è un luogo in cui si può mandare un messaggio al mondo che è possibile costruire pace e fratellanza, un messaggio potente, un messaggio di formazione per i ragazzi più giovani, un messaggio in cui diciamo di non voltarsi mai dall'altra parte perché la guerra che sembrava così lontana invece è vicina a noi e serve l'impegno di tutti a partire dalle istituzioni. Quindi la nostra presenza oggi qui è per dire di andare avanti con forza e le istituzioni saranno al fianco di Rondine. Io penso che questo modello va ampliato e oggi non facciamo nient'altro che fare questo perché apriamo anche ai professionisti, apriamo anche ad altri soggetti che possono venire a studiare tecniche per evitare il conflitto. Sicuramente la Toscana è terra di accoglienza, è terra di solidarietà, è una terra che può ospitare altre iniziative come queste, hanno il compito di valorizzarle e farle crescere. È un centro internazionale dove il metodo Rondine finalmente potrà accogliere un numero consistente di giovani e nelle sue possibilità tecnologiche più avanzate il collegamento con tutto il mondo che ormai è pane quotidiano qui a Rondine. Quindi fisicamente puoi ospitare contemporaneamente 100 persone in formazione perché dobbiamo educare le persone a capire in che ambiente vivono, essere presidi culturali di quello che succede. Quindi anche il luogo sarà valorizzato attraverso questo ambiente che è assolutamente inedito, è un ambiente senza porte, non ci sono porte, ci sono soglie, quando si passa da queste soglie siamo carezzati dalla luce per ricordarci che nella relazione tra le persone si può sempre varcare una soglia e bisogna stare attenti perché se si varca senza il permesso siamo nella violenza. Fin dal primo momento in cui sono arrivato nel 98, quindi prima dell'inizio del millennio ad Arezzo, ho subito capito che fra me e Rondine c'era una sintonia profonda dovuta a questo fatto che Franco Vaccari fondando Rondine aveva intuito lo spirito di tre persone che sono sempre stata alla base anche della mia spiritualità. San Benedetto Camaldoli, San Francesco Laverna e il terzo elemento era la proposta di pace del professor Lapira. Queste sono le tre colonne su cui si basa Rondine e che io così con tutta la modestia del mondo mi ho cercato di potenziare perché ho visto che coincidevano anche con gli elementi fondamentali della mia formazione cristiana e anche presbiterale ed è su questi valori che abbiamo cercato di costruire la pace e continueremo a farla. Qui c'era una scolina elementare di campagna, adesso c'è una scuola internazionale per tutto il mondo per costruire che cosa? La pace. Al via la rassegna d'arte contemporanea Certaldo Arte 2022. È bello davvero poter ospitare questo momento in cui si racconta come si riesce a tenere insieme la storia, la bellezza dei nostri territori. Il Palazzo Petrolio a Certaldo Alto insieme alla bellezza di tutto il borgo ospiterà collezioni di arte contemporanea. È un mix che rende bella e grande la Toscana con i piedi ben radicati nella sua storia, nella sua bellezza, nei suoi valori ma anche con la capacità di guardare al futuro. Sono davvero mostre da visitare. Credo che queste mostre rappresentano davvero bene quella che è la nostra idea, l'idea di partire dalla bellezza dei nostri territori e grazie all'arte, alla cultura, attirare ancora di più visitatori e portare la Toscana verso il futuro. Quindi grazie al Sindaco di Certaldo, grazie all'amministrazione comunale, grazie ai curatori perché davvero Certaldo ancora una volta si dimostra città della cultura. I tre artisti in evidenza sono Luigi Montanarini, protagonista della mostra che rimarrà visitabile fino al 16 giugno, Giampaolo Talani in esposizione dal 25 giugno al 22 settembre e Claudio Cionini dal 1 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023. Luigi Montanarini, grande artista a livello internazionale, artista fiorentino di nascita, romano d'adozione. Un legame fortissimo con Certaldo, quello di Montanarini, perché Montanarini partecipò a un concorso organizzato dal comune di Certaldo con omaggio a Boccaccio. Nel 66 furono scelti due suoi disegni ispirati alla figura di Nastagio degli Onesti del Decamerone. Questi due disegni saranno esposti nella mostra, oltre a tutto il carteggio tra il comune di Certaldo appunto in Montanarini. La mostra successiva sarà inaugurata invece a giugno e sarà dell'artista Giampaolo Talani di San Vincenzo, scomparso nel 2018. Conoscitissimo Talani qua a Firenze, abbiamo l'affresco alla stazione di Santa Maria Novella a Freschi, datato 2006. Si chiude invece con Claudio Cionini, pittore che vive e lavora a Piombino. I suoi quadri sono immediatamente riconoscibili perché sembrano delle vere e proprie immagini fotografiche. Cionini ritrae paesaggi industriali, basta pensare alla sua Piombino con le acciaierie, così come alle metropoli. Ad ospitare le esposizioni la splendida cornice di Palazzo Pretorio. Le nostre sperimentazioni di unione fra il Palazzo Pretorio, che è un palazzo medievale con degli affreschi splendidi, che ha sempre ormai da anni valorizzato l'arte contemporanea. Noi abbiamo promosso ormai da un po' di tempo questi percorsi artistici con queste mostre temporanee. Il Palazzo Pretorio ha delle sale bellissime anche con esposizioni permanenti, con museo permanente, ma ha tutto il primo piano a disposizione per queste mostre temporanee. ed è sempre stata la sua forza quella di essere un polo espositivo di arte contemporanea a livello toscano, che ospita continuamente mostre di carattere importante. Il nostro tentativo è sempre stato quello di allargare l'orizzonte, valorizzare gli artisti locali da una parte e allo stesso tempo portare artisti di livello nazionale e internazionale. Il Palazzo Pretorio è a disposizione dell'arte ed è a disposizione della qualità artistica. Si conclude qui questa puntata di Cronache e Commenti. Grazie per la cortese attenzione. L'appuntamento è per la prossima settimana.